Qui praticamente, forse per questo motivo, hanno iniziato a mettere dei pesi in sopra. Infatti questo è un formaggio appiattito, viene messo in teli di cotone, avvolto, e poi in una pressa, in una pressa di legno, e quindi viene fatto sgocciolare velocemente e rimane in questa pressa 4-5 ore, poi viene salato ed è pronto da consumare insomma dopo 15-20 giorni. Quindi è un formaggio, è un formaggio fresco. E cos'altro dico? In questo formaggio si occupavano le donne, perché nel mio paese anticamente il formaggio era fatto dagli uomini, però proprio della presa della sua veniva rivoltata, veniva asciugata, messa al sole si occupavano le donne. E basta. Dicevo che la nostra è comunque un'azienda...